Per la verità si presenta perché è stata ufficializzata già da lungo tempo, una lista fortissima, scendono in campo tanti pezzi da 90, quello che serve per dare corpo e sostanza a un partito che oggi è il primo partito d'Italia, oggi, ormai da oltre un anno, certificato dalle elezioni politiche, ma prima ancora dai sondaggi, il primo partito d'Italia, credo che sul territorio sia stato fatto un ottimo lavoro e che alle elezioni regionali Fratelli d'Italia, anche nella provincia di Teramo, farà un risultato eccellente. Noi stiamo presentando le liste, quindi si autorisponde questa cosa. La Sardegna è un mondo a parte, ha le sue dinamiche territoriali, è una regione autonoma, risolveranno il problema in Sardegna. Più che soddisfatto, una lista davvero eccellente, quindi non si poteva davvero chiedere di più al partito nel mettere in campo la maggiore forza possibile e esprimere pienamente il potenziale di consenso che abbiamo raccolto in questi anni. Beh, sarebbe divertente raccontare com'è andata davvero quella notte, non escludo di farlo, anzi è probabile che nei prossimi giorni convocherò una conferenza stampa apposita.